Finalmente. Comunque credo che questi posti siano riservati ai genitori, vero? Grazie a lei siamo talmente in ritardo che non fa alcuna differenza. Malgosia. Io mi chiamo Malgosia. Non importa. Dorota. Guardate quanto è bella. Sì, bellissima. È incinta e non vuole nemmeno dire di chi è. Cosa vuol dire? Non vuole dirlo. Quello è il figlio di mio figlio. Siamo talmente in ritardo che non fa alcuna differenza. Di cosa stai parlando? Marito, figlio, qual è la differenza? Stessa famiglia. Che cos'è questa stupidaggine?